L'Ox ha ritoccato a rialzo la previsione di crescita economica dell'Italia di quest'anno, indicando un più 0,2% del PIL a fronte della crescita a zero stimata lo scorso settembre. Nel suo ultimo, Economic Outlook ha confermato il più 0,4% atteso sul 2020, mentre sul 2021 stima un più 0,5%. Sul PIL è atteso un recupero molto graduale, si legge nel capitolo dedicato all'Italia. L'incertezza globale sul commercio e la debolezza della domanda esterna continueranno a pesare sulle esportazioni e sugli investimenti delle imprese. Inoltre, l'ente parigino prevede una stabilizzazione del deficit al 2,2% del PIL nel 2019 e nel 2020 e una limatura al 2% nel 2021, mentre il debito salirebbe al 136% del PIL quest'anno, dal 134,9% del 2018 e al 136,1% nel 2020, per poi iniziare una moderazione dal 2021, su cui è previsto al 135,6%. L'Ox ha chiesto all'Italia una riforma del sistema fiscale di ampia portata, assieme a una razionalizzazione della spesa pubblica, la cancellazione di quota 100 sulle pensioni e il mantenimento del collegamento dell'età pensionabile con la speranza di vita. Servono poi miglioramenti ai servizi pubblici e riduzioni delle incombenze regolamentari, mentre vanno rafforzati i servizi di collocamento e formazione. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha chiesto anche di eliminare i sussidi ambientali, che si sono rivelati controproducenti. Il messaggio, lanciato dalla capo economista dell'organizzazione, Lawrence Boone, durante la presentazione del rapporto, è stato però più generale. In Italia, ha detto, è cruciale avere certezze sulla direzione politica, così come un clima positivo per gli investimenti, non solo pubblici, anche privati. Un'affermazione in cui si potrebbe leggere un richiamo al caso dell'ex Silva di Taranto.